Ciao amici della push up, eccoci qui per una nuova sessione di allenamento. Per chi non mi conosce, io sono Francesca e oggi vi propongo una lezione di gag, gambe, addome e glutei. Abbiamo bisogno solamente di un tappetino se c'è la vita a disposizione, dell'asciugamano ovviamente e dell'acqua per idratarci. Quindi niente, buon allenamento, la musica è già pronta, quindi vado in posizione. Anche oggi da casa, mi alleno a casa come vi allenate voi, ma ci divertiamo lo stesso. Dai, respira, ancora, le spalle ruota, insieme. Porta le braccia avanti, ruota di più, porta le braccia su, il riscaldamento è breve, insieme. Ruota le braccia, insieme. E da capo le spalle giù, insieme. Braccia avanti, ruota di più, porta su, insieme. Ruota le braccia, insieme. Gambe dietro, doppio. Di nuovo singolo, doppio. Ginocchio, ginocchio su, doppio. Di nuovo singolo, doppio. E resta qui, ruota le spalle. E scendi lento e scuote. Uno, due, tre, quattro. Sali, sali, sali. Ancora non scendere tanto. Uno, due, tre, quattro. Teniamo il nostro riscaldamento. Ancora quattro tempi. Uno, due, tre, quattro. L'ultimo così. Scendi in due tempi. Scendi, scendi, sali, sali. Prova a scendere un pochino di più. Scendi, tre, sali. Uno, uno, due, tre. Vieni su. Uno, due, tre. Vieni su. Uno, due, tre. Vieni su. Uno, tre. Scendi, sali, sali, sali. Scendi, sali, sali, sali. E facciamo i singoli. Otto, sette. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Tre molleggi. Tre, due, uno. Vieni su. Tre, due, uno. Vieni su. Occhia tre molleggi. Dal prossimo ci mettiamo un jump. Tre, due, uno. Jump. Jump. Tre, due, uno. Jump. Tre, due, uno. Jump. Tre, due, uno. E singoli. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E molleggi col jump. Uno, due, tre. Jump. Uno, due, tre. Jump. Uno, due, tre. Jump. Uno, due, tre. Singoli. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre. Due, due, uno. Solo gamba destra. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio gamba. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre. Due, due, uno. In effondo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio gamba. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Di nuovo laterale. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. In effondo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio gamba. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Gli ultimi otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E stop. Prendi il piatto, respira, bevi l'acqua se vuoi. Intanto prendi il tuo asciugamano e il tappetino se ce l'hai a disposizione. Lo stendiamo a terra. Ci mettiamo in quadrupedia. Gomiti a terra. Il prossimo esercizio sono le gambe alterne. Le spinte in alto, verso il soffitto. Mi raccomando, cercate di portare la gamba su come se volesse toccare il soffitto. Pronti? Quattro, tre, quattro, tre, due, porta su. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio gamba. Otto, sette, spingi su. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio gamba. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Restato in molleggia. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e cambio. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ultimo giro. Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, allunghiamo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, gli ultimi otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cambio gamba. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora otto. Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, gli ultimi otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e stoppa. Allungo un attimo, la schiena, vi faccio vedere il prossimo esercizio, sempre in quadrupedia. Poggiamo un gomito a terra, l'altra mano largotiamo e facciamo le aperture laterali della gamba, alternate sempre otto da una parte, otto dall'altra. Ci mettiamo in posizione, quattro, tre, quattro, tre, due, vai, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e cambio. Otto, sette, sei, cinque, tira su, quattro, tre, due, uno, cambio. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, l'ultimo giro. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, cambio. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e recupera, allunga, mentre recuperi riguardo a me, è sempre la stessa posizione di prima, ossia gomito a terra, mani ruotata. L'esercizio è questo, tiri su, distendi la gamba, richiudi e porti giù. Pronti? In posizione, quattro, tre, quattro, tre, due, vai, uno, due, tre, giù, alza, distendi, chiudi, giù. Alza, distendi, chiudi, giù. Alza, distendi, chiudi, cambio gamba. Uno, due, tre, giù. Alza, distendi, chiudi, giù. Alza, distendi, chiudi, giù. Alza, distendi, chiudi, cambio gamba. Uno, due, tre, quattro. Proviamo a farne otto. Uno, due, tre, quattro. E cambio gamba. Uno, bravissimi. Due, vi vedo. Non mollate. Ancora quattro volte. Uno, due, tre, quattro. e stop. Allunga. Ci mettiamo con la schiena a terra. Facciamo 16 spinte del bacino. Solo 16 spinte. E poi gli addominali. In posizione. Braccia lungo i fianchi. Vi raccomando, spingete bene su. Quattro, tre, quattro, tre, due, spinte del bacino. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora otto. Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, resta solo in molleggia. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, gli ultimi otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e stop. Ti porto giù il bacino. Incrociamo le mani dietro la nuca. I crunch singoli. Non è importante quanto sali. L'importante è che cerchi di stringere le costole. Pronti? Quattro, tre, quattro, tre, due, sali singolo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, sali singolo. Uno, ancora otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, molleggia tre. Tre, tre, due, uno, porta giù. Tre, due, uno, in singolo, moll'alza la gamba destra. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. La sinistra, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Insieme, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Da qui, poggia giù le impiedi, incrocia la gamba destra sulla sinistra, porta il gomito destro verso il ginocchio sinistro. Cerca di toccare il gomito col gomito e il ginocchio. Adesso, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Chiudi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E cambio gamba, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Chiudi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Da qui, porta le gambe su, mani di nuovo lungo i fianchi. Gli ultimi otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Gli ultimi otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e stop. Lascia le ginocchia al petto. Lascia il petto e la gamba destra, allunga la gamba sinistra. Cambio. Incrocia la gamba destra sulla sinistra e tira il petto. Cambio. Ritorca le ginocchia al petto. Da qui, vieni su, lentamente. Un bel respiro. Ancora. E io vi ringrazio. La lezione è finita, spero che vi fai divertiti. Se vi è piaciuta mettete like e lasciate un commento. Ci vediamo alla prossima sezione di allenamento. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.